Vive da solo, non ha un lavoro ed è pluripergiudicato. Questo l'identikit dello spacciatore 42N, arrestato oggi dai carabinieri di Vittorio Veneto, dopo la perquisizione della sua casa con i cani antidroga. Nell'abitazione è trovati più di traetti di marijuana, oltre all'occorrente per confezionare le dosi che poi vendeva ai giardinetti della città. In mattinata la convalida in tribunale e la scarcerazione con obbligo di firma.